Chiude la 52esima edizione di Vinitaly, un'edizione che ha visto la Regione Calabria al centro dell'interesse dei visitatori. Grazie alla organizzazione della Regione Calabria dell'Arsac e ai due poli che hanno visto qui a Solagri Food la cucina tipica calabrese, tutte le espressioni di una biodiversità fatta di diversi prodotti rappresentati negli show cooking animati da Martino Ragusa e le diverse interpretazioni della cucina di terra, della cucina di mare, delle espressioni del Pollino, della Sila e della Spromonte attraverso la cucina di chef stellati che hanno proposto abbinamenti inediti e spostandoci al padiglione 12 che era l'epicentro dell'enologia calabrese e sulla terrazza della collettiva della Regione Calabria eventi inediti, degustazioni che hanno visto al centro tutte le espressioni dell'enologia calabrese. Un interesse che è stato manifestato anche dal numero di visitatori eccellenti che hanno animato i due padiglioni a partire da Joe Bastianich che ha degustato con sorpresa alcune espressioni come la freschezza del mantonico e l'identità col territorio rappresentata da Gaglioppo e Magliocco. I numeri danno ragione all'organizzazione della Regione Calabria, 81 le aziende che hanno presentato i loro prodotti tra i due poli di Solagri Food e di Vinitaly, più 30% i visitatori, con un grande interesse soprattutto ai visitatori internazionali. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!